Dunisiani, guardate che marchi ingegno stupendo che ho qua, esatto, guardate posso volare con questo coso, cioè non so se ci siamo capiti però guardate Dobbiamo stare attenti però perché è molto pericoloso e vabbè probabilmente vi sto soffiando nelle orecchie, scusate non lo faccio più Adesso però dobbiamo andare a fare una vanilla con questo coso e dobbiamo usarlo anche perché è pericoloso quindi capite più Ma è anche bello da usare, vedete, cioè porca miseria ma wow, vedete, allora adesso dobbiamo andare a trovare, ecco i polli I polli sono molto buoni perché adesso mi serve già cibo perché sì, allora però polli morite grazie, grazie mille E voi vi chiederete da dove ho trovato questo marchi ingegno, l'ho scavato nelle profonde caverne di minecraft, non è vero mai nella vita E ho trovato questo coso con il quale si può anche volare volendo perché se tu vai in una direzione tipo così Eccoci, no, lo sapevo, non devo farlo, eccoci, vedete perché è pericoloso, vedete perché, cioè è pericolosissimo Dobbiamo stare talmente tanto a te perché se moriamo, se moriamo poi lo perdiamo e non possiamo più continuare il video Per forza E mannaggia sti polli, adesso li dobbiamo uccidere tutti quanti Ovviamente mi sono già dato un po' di cose perché non è che stiamo qua a fare una vera vanilla Però sicuramente qualcosa la riusciamo a fare, tipo la notte la vogliamo schippare, giusto? Quindi prendiamo queste pecore, eh? E con il nostro gravity coso ce ne andiamo da un'altra parte, però prima dovremo mangiare in effetti Quindi, guardate, uh, eccoci, 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 vedete, vedete, non è, non è fattibile Cioè, no, assolutamente no E, veramente, se, se moriamo qua, eh, non, non va bene, non va bene, assolutamente no Comunque, adesso, mi faccio questa crafting table che mi servirà automaticamente, eh? Per, per fare, eh, la, la fornace Che mi servirà a sua volta per cuocere questo cibo buonissimo E questo cibo buonissimo mi servirà per recuperare vita E la vita mi servirà per non mori E il non morire mi servirà per continuare il video, eh? Che ne dite? Ovviamente ha tutto quanto senso, no? Eh, molto bello, allora, eh, prendiamo questo cibo perché ovviamente stiamo morendo di fame, no? Noi non vogliamo morire di fame E fra poco inizia a sudare come una scrofone in calore E prendiamo questa, tutta questa crafting table E decolliamo E voi direte, ma come decolliamo? Eh sì, guardate, uh, eccoci, non dovevo farlo, vero? No, però vedete, qua c'è un laghetto No, scusate, eh, vabbè Ma siete pazzi, vero? Cioè siete pazzi Pazzi sincopati proprio Eh, ok, funziona, funziona, ok, perfetto Mi sono mutato per qualche secondo Ma perché io ero completamente scioccato dal fatto che non funzionasse E non capivo come mai non funzionasse Ho detto, oh, ma perché non funziona? Perché funziona invece Cioè, capite, è tutta una situazione molto Eeeh, eh, vabbè Eeeh, le, 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 le Ma siete pazzi? Completamente? Eh? Tu, pollo, sei pazzo? Allora, perfetto E' bellissimo però da usare questo coso Però adesso devo andare a prendere qualche cosa in miniera, eh Porca miseria Ci sono quei tizi schifosi che camminano Non va bene Quei tizi, io li odio Accidenti Adesso però vogliamo, eh Molto bello vogliamo Eeeh, la, 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 la Eeeh, vabbè, siete pazzi Scusate, 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 scusate Eeeh, ma siete pazzi? Ma avete visto quante cose ci sono qua? No, scusate Eeeh, io mi sono Perché, cosa, io Mi sto schifando Completamente E vorrei semplicemente andare Eccoci, però Se adesso io non riesco a scendere Vogliamo Ma, vogliamo ho detto Oh, ma perché non vol- Adesso Io mi chiedo Se ha volato finora Ma vai a- Eeeh, lord Vola Ok, perfetto Sta volando Sta volando sempre di più Sempre più velocemente Ma- Oh, oh mio dio no Stai scherzando Ok, perfetto Adesso vola Forza, 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 forza Perfetto Ci siamo Ok, molto bene Eeeh, scherzavo ovviamente No? Ah, però qua Vedete che ho trovato una spada Questa spada Infligge danni Veramente sorprendenti A questi schifosi esseri Che io posso cavalcare A quanto sembra Vabbè Questi però sono altri conti Però, vedete Volano Eeeh Perché questa spada Eeeh Si è arrabbiato Si è arrabbiato Aiuto Perfetto E' molto bello questo aggeggio Devo dire Porca miseria Scrivetemi se volete Vedere altri episodi Con questo aggeggio Perché E' bellissimo Anche se si sta facendo notte Quindi adesso Eeeh Ovviamente Non è che Non si può C'è capito Ok, perfetto E' arrivato di nuovo Giorno come per magia, no? Cioè, nel senso E' ovvia questa cosa La magia Eeeh Chiaramente Si Tipo adesso è giorno di nuovo Ok, perfetto Eh, volo Vola, vola, vola Vola La pemaia Ok, perfetto Però almeno abbiamo trovato Questa cosa qua No No Allora Dobbiamo stare attenti Perché qua Oh, porca miseria Però adesso questa Questa mela Io la odio Basta Non ne posso più Polly fate schifo Basta Io vi odio Con tutto il mio cuore Dovete Mmm Ok, perfetto Pure tu Pure tu Sei proprio Antipa Antipatico Sì, esatto Sì, esatto Hai capito bene Scherzo Sono molto simpatici Polly Però che bella Questa cosa Del gravity Coso No? Cioè, nel senso Scrivetemi se volete vedere Altri episodi Con questi Con questa cosa Qua Molto bella Secondo me Molto divertente Una specie di Mode Showcase Nel senso Di recensione Di mode Io non so Cosa siano Questi rumori Non voglio Saperlo Grazie per aver guardato Questo video Se arrivate fino a questo punto Del video Scrivete Microfono Nei commenti E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Duenisiani